Entreranno in vigore domani 4 aprile le nuove banconote da 50 euro, come ha annunciato stamattina a Pesaro il colonnello della Guardia di Finanza, Antonino Raimondo, nell'ambito di una campagna di informazione e comunicazione promossa dalla Banca d'Italia e che, anche tramite la formazione delle forze dell'ordine, è finalizzata alla fiducia dei cittadini. La banconota, che rappresenta uno dei tagli più impiegati assieme a quella da 20 euro, è per questo più soggetta a falsificazione e ha dunque più bisogno di essere migliorata nel tempo, modificandone le sue caratteristiche di sicurezza. Pensate, l'anno scorso, nel 2016, oltre il 43% delle banconote false erano tagli da 50 euro, poco più del 30% erano i tagli da 20 euro, quindi quasi un 80% circa delle banconote false sono tagli da 50, prevalentemente da 20. Ed è importante che i cittadini forniscano immediatamente, con tempestività, alle forze dell'ordine, tutti quegli strumenti tali di riconoscimento di chi ha fornito questa banconota. Perché non dobbiamo immaginare la spendita di banconote false come una fase marginale, dobbiamo immaginarla come un aspetto marginale all'interno di un sistema criminale organizzato. Rinnovamento grafico dunque, ma non solo, la nuova serie infatti denominata Europa è stata progettata considerando l'ingresso di nuovi paesi in Unione Europea dal 2002 e per i più curiosi anche una chicca che andrà a valorizzare il nostro patrimonio artistico. I particolari grafici richiamano monumenti rinascimentali italiani, ne abbiamo quattro, che può essere un buon gioco per andarsene a ricercare. Bisogna conoscere bene i monumenti italiani e trovare quel particolare, ma questo qui coincide, in effetti è stato volutamente ripreso, motivi architettonici diciamo del nostro rinascimento. Migliorata dunque la finestra olografica che sarà trasparente per inibire le riproduzioni, potenziato il sistema di calcografia che permette agli ipovedenti di riconoscere la banconota, sarà usato un inchiostro cangiante difficilmente acquistabile e reperibile, così come la filigrana che darà maggiore profondità alla banconota e infine l'utilizzo della carta di cotone che impedisce il riflesso. Invito dunque sempre aperto nei nostri portafogli per i nuovi 50 euro e per la vecchia banconota l'agurio di un felice pensionamento.